Domani per le zebette inizia la prima gara ufficiale della stagione 2018-2019. In campo alle 16 la Coppa Italia alpassa contro il Solofra. Il pubblico e i tifosi sono pronti per far sentire il proprio calore e questa squadra per l'avvio del campionato di eccellenza nel quale vuole essere protagonista e puntare alla vittoria finale. Inoltre la battipagliese ha reso noto di aver ritirato dalla propria numerazione ufficiale la maglia numero 12 per cederla ai tifosi come segno ulteriore di unione tra la società e la propria straordinaria tifoseria all'inizio di una stagione che si augura possa essere ricca di soddisfazioni. I nostri tifosi, dichiarati il direttore sportivo Carmine Guariglia, sono il nostro orgoglio e abbiamo voluto omaggiarli con una maglietta numero 12 per renderli ancora di più parte integrante del nostro progetto. Solo con l'oro al nostro fianco possiamo fare bene.